Servizi sociali da riorganizzare secondo le reali necessità dei cittadini e la Cisle di Messina chiedere l'adeguamento del settore alle reali esigenze del territorio, mettendo in luce con uno studio le carenze delle istituzioni e il sostenere i soggetti con disagio sociale. Il segretario generale Tonino Genovese e i segretari delle federazioni del pubblico impiego e dei pensionati Calogero Emanuele e Bruno Zecchetto fotografano anche con i numeri le carenze delle prestazioni erogate nella città dello stretto, ad esempio a fronte di una popolazione di oltre 65 anni che fa contare 47.280 persone, quelle che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare sono appena 900. Ed oltre alle cifre anche le attività assistenziali sostengono i rappresentanti del sindacato andrebbero riorganizzate per garantire una migliore qualità. Altri numeri inoltre rivelano la sofferenza del settore che opera a tutela dei più deboli. Al 31 dicembre l'utenza che fruiva dei servizi sociali era pari a 1700 unità con una forza lavoro di 550 operatori a fronte degli 800 che risultavano occupati fino al marzo dello stesso anno. Servizi sociali dunque indeboliti e ripercussioni anche sul piano occupazionale a causa dei precari affidamenti in proroga dei servizi. A gestire il settore infatti sono sempre le cooperative, alcune delle quali non pagano i propri dipendenti addirittura dai primi mesi del 2013. Per la CIS lo occorre dunque riorganizzare, anche differenziando le esigenze secondo le criticità dei singoli quartieri, la macchina dei servizi sociali. La dimensione locale del bisogno, sostengono i segretari del sindacato, va rivalutata.